Musica 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 Costringe a ribaltare, tonuta a calare, a scarica, Watt nell'angolo, finta di Cerella che cerca luce alla fine, serve Watt! Che va al ferro e schiaccia il 25 pari! Wright dall'altra parte va ad attaccare mezza difesa di Torino e trova un bagheggio Chris Wright con un canestro pazzesco time out Galviati giocata fantascientifica di Chris Wright Allihoop disegnato da Serraels per Brooks Cuisine sotto i tabelloni lavora rimane con lui Mosley McAdoo con l'inchiodata in faccia a Peric Fallo subito Chase McAdoo con un posto riservato in top ten Allora dall'altra parte contro piede 3 contro 2 per Alcantù Udano che cerca la penetrazione e si porta a casa il ferro vola sopra le montagne del Trentino Ike Udano